Sì, grazie. Non voglio reiterare le cose che ho già detto precedentemente, ma siccome non abbiamo mai occasione di discutere di questi temi e siccome il bilancio della Camera affronta anche il tema delle indennità, vorrei ancora una volta, mi rivolgo a tutti i colleghi e chiedo attenzione, perché uno dei luoghi comuni della campagna che si sviluppa è che i parlamentari, in particolare i deputati, godono di stipendi d'oro. Ora, io ho qui con me il cedolino del luglio 2023 che tutti avete ricevuto, da cui risulta che l'indennità lorda parlamentare è 10.435 euro, da cui giustamente, e sottolineo giustamente, vengono defalcati il prelievo IRPEF, l'assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati, a proposito di italizi, per la previdenza sono 1.000 euro al mese che vengono defalcati, le addizionali regionali e le addizionali comunali. Fatti tutti questi giusti prelievi, l'indennità netta di qualsiasi deputato, tutti noi, perché questo cedolino è uguale per tutti, è 4.718 euro al mese. Va bene così? Sì, e dico va bene così. L'unica cosa che chiederei a tutti i colleghi, ed ora in avanti, ogni qualvolta viene sentite dire, e non diciamolo noi per primi, che i deputati godono di stipendi d'oro, non è vero, perché 4.718 euro al mese sono una buona indennità, e va bene così, ma non sono degli stipendi d'oro. Per ciò che riguarda, ho richiesto di fare la dichiarazione di voto, perché volevo sottolineare anche questo aspetto, non avendo condiviso gli ordini del giorno che sono stati adottati in materia previdenziale, ma avendo massima considerazione e massimo rispetto per il lavoro dei questori per il bilancio che è stato redatto, mi esterrò. Grazie.